Diego Cavallari, Business and Marketing Director, Italia e Iberia. Che giorno è oggi? Oggi è il 31 agosto 2017. Dove siamo? A IFA di Berlino. Quali sono i prodotti più interessanti che avete presentato qui a IFA 2017? Abbiamo presentato l'OLED, il modello Step Up, che è quello che potete vedere qui a destra. Abbiamo presentato anche un TV che utilizza la tecnologia Quantum Dot. Cos'è P5 e quali migliorie effettive porterà? P5 è il nuovo processore video di Philips che permette di avere 5 stadi di elaborazione dell'immagine per immagini ancora più nitide e perfette con qualsiasi sorgente di ingresso. Personalmente, qual è il prodotto che preferisci tra tutti quelli che avete presentato? Questo, l'OLED, il nuovo OLED. La tecnologia avanza giorno dopo giorno. Cosa ti piacerebbe presentare a IFA 2027? Mi piacerebbe presentare un TV in grado di assecondare in termini di design e dimensione l'esigenza del cliente finale. Voglio dire che possiamo tagliarlo a dimensione perfetta, così come dargli la cornice del colore che il cliente esige. Grazie Diego per averci dedicato il tuo tempo. Saluta i nostri spettatori. Un saluto a tutti, grazie.